Penso soltanto per quelli che viaggiano nella 71 e viaggiano quelli che pensano solamente per sé e non agli altri e ogni tanto uno ci lascia la vita. A coro uno schianto lungo la regionale 71, la Umbro Casentinese, la strada più nera della Retino, l'ultimo incidente nel quale ha perso la vita una cinquantenne Pierpaolo Ferrini, è avvenuto ieri sera attorno alle 20 proprio in questo punto, uno schianto frontale che inevitabilmente adesso riaccende l'attenzione sulla questione sicurezza lungo questa strada che purtroppo continua a contare, troppi incidenti. Beh, pericolosa sì perché tendono ad andare forte, quello sì, tendono veramente ad andare forte. Ci sono dei limiti di velocità che non vengono rispettati quindi questo è anche un altro problema grande penso. Diciamo che ti puoi trovare in un problema rischioso se qualcuno non rispetta il codice della strada e questo capita. Io la faccio una volta alla settimana però non trovo tanto pericoloso, il traffico è regolare e perlomeno non ci sono pericoli imminenti sulla strada. Ci sono però tanti incidenti lungo quella strada. Dipende come sono avvenuti gli incidenti, a volte una distrazione può essere ma non certo per il tragitto stradale. La 71 non è più compatibile con i mezzi e l'unico sbocco di trasporto che c'è dal casentino per andare all'autostrada. Però rimango sempre dell'idea che tutto è pericoloso. Bisogna vedere in quale modo si percorre la strada rispetto delle altre macchine.